Questa è una storia brutta, brutta come la sensazione che lascia addosso, è brutta come i pensieri di vendetta che hanno generato soltanto male, dolore e distruzione. Questa è una storia brutta, la storia di un padre che ha dimenticato di esserlo. Sono Black Praline e racconto storie nere. Legnago, provincia di Verona, è il 21 gennaio del 2000. A Tunisi quel giorno ci sarà il funerale di Bettino Craxi. Totorina viene condannato a un altro ergastolo per le stragi di Firenze e di Roma. Al cinema danno l'ultimo bacio di Gabriele Muccino e chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo. Alessandro Montanaro ha 31 anni. Da ragazzino la scuola proprio non gli andava genio ed era stato bocciato in prima media. Non le aveva neanche finite le medie e suo padre allora gli aveva detto che doveva andare a lavorare, visto che di studiare non se ne parlava. E ci è andato, nei campi, a raccogliere le mele. Ma si era stufato in fretta. In quel periodo il suo carattere è particolarmente litigioso, commette anche qualche atto vandalico. La licenza media l'ha conseguita successivamente alla scuola serale. È una testa calda Alessandro e quando nel 1987 parte per il servizio militare a Teramo inizia a consumare eroina. Ha conosciuto una ragazza nel frattempo e forse sarà la volta buona per mettere la testa a posto. La chiameremo Laura. Il 18 maggio del 1991 Laura e Alessandro si sposano nella chiesa di Porto di Legnago. Aveva avuto molta pazienza Laura. Aveva fatto di tutto per aiutarlo. La tossicodipendenza di Alessandro aveva già iniziato a minare la loro unione e lui era stato affidato ai servizi sociali. La nascita della loro bambina nel settembre del 1992 non era stata sufficiente a riportare un po' di serenità tra loro. Laura, alle spalle, ha un'esistenza molto difficile. Sua mamma è morta quando lei era ancora una bambina e con suo padre i rapporti erano tesi. Lei ha sempre lavorato sodo per riuscire ad avere un modesto stipendio. Quando si fidanzano Alessandro ha una certa tranquillità economica, il padre ha un'azienda di trasporti e la sua famiglia possiede vari immobili. Alessandro non ha mai smesso di drogarsi, neanche durante i percorsi di disintossicazione. Nel 95 è entrato in comunità perché Laura gli ha dato un ultimatum minacciandolo di lasciarlo, ma lui non appena tornava a casa ci ricascava. Addirittura appena si sono sposati teneva nascosta la sostanza tra i regali di nozze. Aveva sempre qualche amico pronto a portargli la droga a casa. Continuava a drogarsi nonostante frequentasse il CERT e negava. Negava anche di fronte all'evidenza quando i risultati degli esami rivelavano che avesse fatto utilizzo di eroina. Quando non poteva più negare, la sua rabbia lo portava ad avere reazioni molto violente. Spaccava ciò che gli capitava sotto mano, così sua madre e Laura, rassegnate, lo lasciavano in pace. Nel maggio del 1999 Laura non ne può più e gli comunica che vuole lasciarlo e stavolta per davvero. Laura vuole chiedere la separazione. A dicembre dello stesso anno i servizi sociali prospettano ad Alessandro un nuovo ricovero in comunità, ma lui si riviuta e non si fa più vedere neanche al CERT. Laura chiede la separazione con addebito di colpa a suo marito. Qualche mese dopo optano per una separazione consensuale e la bambina viene affidata alla mamma. Lui può vederla il fine settimana, anche se Laura non si oppone mai e gliela lascia vedere quando lui lo chiede, anche se non è il giorno stabilito. Alessandro torna a vivere a casa di sua madre e Laura rimane con la bambina nella casa dove avevano vissuto tutti e tre, dove spera finalmente di poter respirare un po'. Inizia a frequentare un'altra persona, anche se in realtà di fatto lei e Alessandro continuano a vedersi. È una persona profondamente immatura, Alessandro, gli piace atteggiarsi, ostentare. Racconta a tutti che in casa ha uno stereo che ha pagato 50 milioni di lire, però per mesi non passa gli alimenti all'ex moglie. Si costruisce un castello di bugie per apparire ciò che non è. Non è solo dipendente dall'eroina Alessandro, ma anche da Laura. Non accetta che lei si stia ricostruendo una nuova vita. È convinto di poterla riconquistare. Sua figlia è il mezzo che usa per mantenere i contatti con Laura, quando va a prendere la bambina poi in realtà ad occuparsene e sua madre. A settembre del 1999 Alessandro scrive una lettera alla sua ex moglie in cui ammette di essere geloso della persona che lei sta frequentando. Si colpevolizza per non essere riuscito a valorizzarla come moglie e come donna. Le chiede di credergli. Le dice che non l'ha fatto apposta. Dice di sentirsi inferiore a lei. Da quando si sono separati, Alessandro non ha mai dimostrato di poter accettare di vivere senza Laura. Ogni volta che la incontra con la scusa di vedere la bambina, ammette di essere stato un cattivo marito, ma dice anche che le dimostrerà di poter cambiare e chiede a Laura di lasciargli aperta una possibilità. Ma lei è stata chiara, non vuole più tornare con lui. Un giorno Alessandro scrive a Laura un'altra lettera. Le dice che lei e la bambina che chiameremo Giulia erano la sua unica ragione di vita. Quel giorno cerca di impiccarsi nel garage di casa, ma in quel momento entra sua madre e lo salva. Nella lettera aveva chiesto di poter essere sepolto con la fotografia di sua moglie e di sua figlia. Laura è rimasta molto scioccata dal tentativo di suicidio dell'ex marito e teme che possa ripetere quel gesto. Lui continua ad implorarla di dargli un'altra possibilità. A dicembre Alessandro riesce a convincere tutti che da tre mesi non assume stupefacenti, anche se non è così. Convince sua madre affinché dica a Laura che non gli sta dando più soldi. E Laura nota che questa volta a lui sembra diverso, non è aggressivo, né porta sul viso i segni dell'uso di droga. All'assistente sociale che è in contatto col tribunale, Alessandro racconta che forse tra lui e la moglie c'è qualche possibilità di tornare insieme. E quando Laura viene colpita da una brutta influenza, Alessandro fa di tutto per aiutarla. Va a fare la spesa, cucina, cerca di non farle mancare niente. Si trasferisce letteralmente per qualche giorno da lei e sembra che tra i due ci sia un riavvicinamento. Laura però non si fida. È confusa e invece di riavvicinarsi a lui decide di lasciare la casa dove vivevano insieme e dove ora vive con la figlioletta e prende un appartamento in affitto dove si trasferisce con suo padre e con la bambina, continuando la relazione col nuovo compagno. Alessandro ricomincia ad insistere, cerca di convincerla a ricostruire il matrimonio, dicendole che ha intenzione di comprare una nuova casa per loro. Vanno addirittura a vederla. La intesto a te questa casa. Come ennesima prova d'amore le giura che non si droga più e che grazie al camion del padre, morto da qualche mese, guadagna circa 8 milioni di lire. Qualcosa anche in nero. Dunque potranno vivere bene anche dal punto di vista economico. Inoltre, per fare leva su Laura, Alessandro inizia a parlarle male del suo nuovo compagno. Laura è sempre più confusa. L'uomo che ha scelto di sposare l'aveva delusa e aveva fatto una vita infernale. L'unica cosa bella era stata la loro bambina. Ora lui forse era davvero una persona diversa. Mille pensieri le passano per la testa in quegli attimi. Forse una parte di lei non ha mai scordato il bene e l'amore che le ha legati. Forse una parte di lei vorrebbe fidarsi ancora, ma sa che non può farlo. Non così. Non su due piedi. Laura gli dice che ha bisogno di tempo. Vuole un mese di tempo per pensarci. Ora non ce la fa. Non può rispondergli, deve pensare. Nel frattempo, il nuovo compagno di Laura, che ha ancora una moglie, riesce a convincerla a rimanere con lui. Lei dice che vuole una cosa seria, che lascerà la moglie e comprerà una bella casa per loro da intestare proprio a lei. Laura è convinta. Ora ha deciso. Non tornerà più con Alessandro. Vuole anche parlare con suo padre per metterlo al corrente della sua scelta. Lo farà più tardi, quando il padre tornerà a casa dopo essere andato a prendere la bambina a scuola. Rimane soltanto una cosa da fare per Laura. La più pesante e dolorosa. Affrontare ennesimamente Alessandro e dirgli che lei ha deciso che tra loro è finita per sempre. Che lei vuole un'altra vita. E non con lui. È il 20 gennaio. È passato un mese esatto. Alessandro ha aspettato un mese. Ha lasciato a Laura il tempo che voleva per pensare. Ed è convinto che finalmente, da ora in poi, tra loro le cose andranno bene. Quel giorno parte con il camion del padre per consegnare della merce. E porta con sé la mamma. Intorno alle 17 riceve una telefonata da Laura. Lui non vede l'ora di sentirsi dire quello che sta aspettando da tempo. Tutto si spezza in pochi attimi, però. Laura non usa mezzi termini. Questa volta la decisione è definitiva. Non c'è nulla che lui possa fare per farle cambiare idea. Lei non se la sente più di ricominciare. Le parole di Laura. Lo stroncano. Rimane in silenzio. Non dice nulla alla madre che è con lui e che lo ha visto scendere dal camion per parlare al telefono. Alessandro va dritto a comprarsi una dose di eroina e se la inietta. La madre non si accorge di nulla. La accompagna a casa sua. Lui sale sulla sua auto e richiama Laura. Perché deve essere sicuro. Forse ha capito male. Ma Laura è irremovibile. Alessandro le chiede di poter parlare un attimo di persona. E va da lei. Raggiunge casa di Laura intorno alle 18. Lei scende a parlargli e non lo fa salire perché sopra c'è il suo nuovo compagno. Laura gli spiega che il loro matrimonio è ormai irrecuperabile. Ma lui insiste. Le chiede di pensarci ancora. Lei gli ribadisce che la sua decisione l'ha presa e che non tornerà più sui suoi passi. Alessandro sembra rassegnato. Sembra aver capito. È stranamente calmo. Anche perché si è iniettato una dose di eroina. Ma Laura non lo sa. Alessandro ha capito di non avere più speranze di ritornare con lei. E a quel punto le chiede di poter portare con sé la bambina nonostante non sia il giorno stabilito dal tribunale. Laura consente. E lui le dice che vorrebbe che la bambina dormisse con lui quella sera. Aggiunge che non c'è bisogno della cartella di Giulia perché l'indomani non la manderà a scuola. Vuole portarla in giro tutta la giornata. Laura non si è mai opposta quando Alessandro voleva vedere la bambina e gliela lascia. Vorrà dire che forse quella sera lei e il suo compagno potranno festeggiare l'inizio della loro nuova vita insieme. Non appena Alessandro sale in macchina con la figlia inizia a farle molte domande. Vuole sapere se a casa con la mamma c'è anche il nuovo fidanzato? E la bambina risponde di sì. A quel punto Alessandro Montanaro va in tilt e inizia a telefonare all'ex moglie e a mandarle dei messaggi ma lei non risponde. L'uomo porta la bambina nella casa dove avevano vissuto tutti e tre. Ha deciso che quella sera non staranno dalla madre. Alessandro insiste e continua a cercare di contattare Laura. Manda anche dei messaggi al nuovo compagno della donna che è una persona che lui conosce. Laura però non ne può più e spegne il telefono e anche il suo compagno lo spegne. Alessandro Montanaro sa a questo punto che non c'è più niente che possa fare per convincere Laura a tornare con lui. Lo sai cosa facciamo adesso? Adesso scriviamo una bella letterina alla mamma. Montanaro dà un foglio alla bambina e le dice che cosa deve scrivere. La bimba ha sonno. Poco prima lui le ha somministrato delle benzo di azepine. Scrivono quella letterina e poi Giulia dice che vuole andare a dormire e le si chiudono gli occhi. Sono le 23 quando Alessandro Montanaro uccide la figlia di sette anni con un coltello da caccia che aveva comprato poco prima di Natale in un'armeria. Successivamente tenta di contattare ancora Laura vuole proprio dirglielo che cosa ha fatto per colpa sua. Ma la donna ha il telefono spento. Due ore dopo circa la madre di Alessandro che vive a 500 metri di distanza va a cercarlo. Ha saputo da Laura che lei lo ha lasciato definitivamente che non vuole più tornare con lui. La madre suona ma lui non apre. Lo sente farneticare in lacrime tra quelle frasi le sembra di sentirne una distintamente una frase che leggele il sangue. La bambina è morta. La madre di Montanaro corre a casa a prendere la copia delle chiavi dell'appartamento dove suo figlio si è barricato ma nella concitazione prende il mazzo sbagliato così una volta arrivata dietro quella porta continua a suonare il campanello per farsi aprire. In quegli istanti esattamente come aveva fatto la prima volta che ha tentato il suicidio appena sente sua madre nuovamente dietro la porta Alessandro cerca di tagliarsi la gola. Non ci riesce ma si ferisce. Quella notte però la madre non può entrare non ha le chiavi giuste e lui sa che questa volta sta rischiando davvero di morire. Così si presenta alla porta tutto imbrattato di sangue agitato. Nel frattempo la madre ha chiamato un'ambulanza temendo il peggio e quando lui vede che fuori dalla porta ci sono i paramedici scappa al piano di sopra. A lune 46 del 21 gennaio nella casa di Legnago ci sono anche i carabinieri. Per la piccola Giulia non c'è più nulla da fare è stata uccisa da un colpo che le ha reciso la giugulare. Montanaro viene soccorso e portato in ospedale. Viene interrogato dai carabinieri e dice di non ricordare nulla. Sa solo di aver preso con sé e sua figlia prelevandola dalla casa dell'ex moglie e poi non ricorda nient'altro. Sono andato a prendere la bambina dalla mia ex moglie. Lei la bambina piangeva perché non voleva stare con l'uomo che ora sta con mia moglie. Poi sono andato a casa mia e non mi ricordo più niente. So di quello che è successo perché ho letto le carte ma non ricordo nulla. Non so chi possa aver ucciso la bambina e i miei ricordi terminano nel momento in cui sono andato a prenderla. Montanaro viene sottoposto a perizia psichiatrica. Secondo i periti soffre di un disturbo dipendente di personalità, non però così grave da impedirgli di capire quello che stava facendo a sua figlia. Anzi, sapeva perfettamente di compiere un gesto che avrebbe distrutto anche la vita di Laura. Alessandro Montanaro ha ucciso sua figlia di sette anni per distruggere la vita della sua ex moglie. Nella casa dell'orrore dove Giulia non ha avuto scampo è stato trovato qualcosa di agghiacciante. Ci sono dei fogli scritti in parte dalla bambina e in parte da lui. In uno si legge. «Cara mamma, sono le 20 e 20. Il papà ti ha chiamato perché l'ho voluto anche io, perché piangevo. Avrei voluto che fossi qui con noi. Voleva portarmi a casa, ma io non volevo perché non lo voglio quello lì», ha scritto Giulia. Sicuramente sotto dettatura. Poi è lui a continuare. Giulia si è stancata di scrivere. «Che tu ci creda o non ci creda sono pensieri suoi. Per quel che mi riguarda, lo staccare il telefono è stato come se tu non la volessi tra i piedi. Io faccio un'azione che si poteva evitare anche con il telefono». «Ricorda, è solo colpa tua se stiamo morendo». Non volevo centrasse la bambina, ma quando l'ho vista in quelle condizioni per quel pezzo di merda, abbiamo deciso di non soffrire più. «Ma perché non mi hai lasciato vivere? Non hai lasciato vivere la Giulia? Avevamo 31 e 7 anni. Tu e solo tu non te lo devi, dico, mai dimenticare. Tu, insieme a lui, sei l'unica responsabile di tutto questo». «La morte di tua figlia è colpa solo tua, ricordatelo». «E pensa alla Giulia, che ora è già lì. Poverina, non ha sofferto. Magari una telefonata allunga la vita». Sul lato del foglio si legge «Grazie da Giulia». Alessandro Montanaro è stato condannato a 30 anni di carcere.